Movene Natale, terza edizione, aggiungatelle, una serata davvero strabiliante con luci, colori, emozioni, gastronomia cilentana e tanta tanta armonia. Qui accanto a me anche due carinissimi ragazzi del posto, ve li presento. Amedeo. Adriana. Noi siamo in compagnia di Franco che ovviamente è una delle colonne di questa associazione che porta avanti insieme a tutto il gruppo di Insieme per Giungatelle questa bellissima manifestazione che si svolge nel periodo natalizio ma anche quella che si svolge nel periodo estivo e quindi nel mese di agosto. Ovviamente prima di andare a degustare le pietanze ottime che poi il Buongianni vi farà vedere nel nostro report dovete passare dalla cassa perché però dovete pagare e questo denaro però è piacevole da dare. Sapete perché? Perché l'incasso che è qui dentro, signori e signori, signori e signore anzi, sarà tutto devoluto, non andrà nelle tasche di questi signori e questa è una cosa bellissima perché loro lo fanno davvero con il cuore ogni anno, è vero Franco? Sì, sì, senz'altro. Cerchiamo di dare il nostro meglio, cerchiamo di fare sempre meglio ogni anno. Ci mettono il cuore, ci mettono l'impegno, l'innovazione ogni anno. Vedete quest'anno ci sono questi mercatini che fanno da cornice a questa bellissima festa perché è davvero una festa, si sono rinnovate infatti scenografia diversa, un bellissimo albero di Natale, c'è questa musica che ci accompagna come sottofondo con un bambino straordinario, secondo me è un prodigio del Cilento perché è davvero all'età di sei anni a cantare e a suonare la fisarmonica insomma davvero è spettacolare. Si fa guardare, si fa guardare. Che dire, davvero non ci sono parole, ogni anno vi superate. Grazie a tutti i partecipanti con i banchetti che sono venuti da tanti posti, tante parti e ci fa piacere. Poi il tempo ci ha dato una mano perché dopo tanto brutto tempo ce l'ha dato queste due giornate e noi ringraziamo tutte le persone che vengono da tutte le parti, anche chi ci aiuta e al nome di tutta l'associazione. Ricordiamo quindi sempre lo scopo di questa associazione. Sì, sì, è lo scopo sempre per fare sempre di più la chiesa e una parte della nostra cosa va per chicco, una parte del nostro ricavato. Sì, ormai i nostri telespettatori conoscono benissimo la storia di questo bambino e dobbiamo dire anche che il Cilento intero, ma non solo, si è mobilitato per donare veramente tanto a questo bambino che necessita di cure importanti, non qui in Italia ma all'estero e anche l'associazione Insieme per Giungatelle oltre a devolvere una parte per quanto riguarda la ristrutturazione della chiesa ha pensato bene anche di fare una bellissima bottiglia dove all'interno ci sono... Di associazione facciamo la nostra parte, facciamo il nostro meglio, quello che possiamo dare figuriamo ci siamo anche noi. Quindi ci sono dei fondi che poi saranno devoluti a questo bambino alla sua famiglia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.